Sarà un pianeta di scimmie. Cerco giustizia, ma accetto la vendetta. Nel momento ci sono dai 500 agli 800 miliardi di dollari lì dentro. In ogni millimetro, telecamere e rilevatori di movimento. L'unica banca mai rapinata. E noi la castigheremo. Il mio figlio sarà la morta. La morta. Non mi prende più attenzione, ma sicuramente si ascolterebbe a qualcosa che ti devi dire. Cherie! Aga, dei tre cartelloni alle porte di Ebbing. Non finisce proprio un cazzo, brutta ritardata. Questo è solo l'inizio. Ma andai non da questo, stronza, sulla tua trasmissione di merda buongiorno, Missouri. Andiamo, colpissimi! Mettiamo un bel sorriso su questa faccia. E della marcia! Venuto per far rivivere il perduto ordine della cavalleria! L'ho scritto io! Flastemia! È stata la mano di nostro signore a portarmi qui. Posso leggerlo? Vediamo a lei su Tinder. Il problema non sono gli scherzi. La mia macchina. Un attimo, quasi fatto. Il problema sta nel fatto che voi non ve ne frega un cazzo di essere considerati gli sfigati. Bene signora, questa è una rapina. E le mostri la pistola così. Non vorrei si facesse male. Lei mi piace tanto, quindi non mi spezzi il cuore. Non deciso. Cocaine è uno dei più grandi produttori al mondo. La maggior parte dei soldi li dà ai poveri. Non possiamo più accettare queste ingiustizie sociali!